Valuteremo in tempi rapidissimi la richiesta di stato di emergenza regionale avanzata dal comune di Cortona. La regione agirà tempestivamente per affrontare le criticità idrogeologiche e per sostenere l'attività degli imprenditori che hanno subito danni. Così il presidente della regione toscana Enrico Rossi assicura la massima attenzione per i gravi disagi causati dalla bomba d'acqua che ha colpito alcune aree nel Cortonese. Il problema però secondo gli operatori danneggiati non è soltanto il clima ma anche ad esempio la pulizia dei fossi per gli agricoltori insostenibile e le lungaggini burocratiche per il riconoscimento dei danni. Se io metto uno scavatore ogni 2-3 anni a rifare tutti i fossi mi costa quelle 50-60 euro l'ora che oggi come oggi non mi posso assolutamente permettere con i guadagni dell'azienda. Noi l'unica cosa su cui possiamo aspirare è un contributo straordinario per l'evento atmosferico avverso da parte della regione di cui però diffidiamo abbastanza perché vediamo che non riusciamo mai ad averli questi contributi. Ancora abbiamo fatto ora le domande per la siccità di anno scorso che ci ha compromesso raccolto ben oltre il 50% ci dicono che però non ci sono fondi per tutta Italia quindi abbiamo poche speranze. Appena concluso l'iter, prosegue Rossi, partiranno gli interventi di ripristino e verranno attivati gli strumenti di microcredito per consentire una piena e pronta ripresa delle attività produttive. Verrà raccolto la metà del prodotto, la metà del prodotto perché parecchio rimarrà per terra e parecchio sicuramente sarà dal punto di vista sanitario nelle milioni di condizioni. Speriamo che il tempo nei prossimi giorni sia clemente e ci consenta di effettuare alcune operazioni culturali tipo una rottura della crosta e una concimazione per far sì che la pianta possa riprendersi il più velocemente possibile da questo stress. Grazie. Grazie.